Cari fratelli e sorelle, Cristo è risorto, è veramente risorto. Il mattino di Pasqua ci riporta l'annuncio antico e sempre nuovo che Cristo è risorto. E l'eco di questo avvenimento, partito da Gerusalemme più di venti secoli fa, continua a risuonare nella Chiesa, che porta viva nel cuore la fede vibrante di Maria la madre di Gesù, la fede della Maddalena e delle altre donne che per prima videro il sepolcro vuoto, la fede di San Pietro e degli altri apostoli, i testimoni oculari del risorto. Fino ad oggi, anche in questa nostra era di comunicazioni ultra tecnologiche, la fede dei cristiani si basa solo su quell'annuncio, sulla testimonianza di quelle sorelle e di quei fratelli che hanno visto il masso rovesciato e la tomba vuota. Poi i misteriosi messaggeri, gli angeli, i quali attestavano che Gesù il crocifisso era risorto. E quindi lui stesso, il Maestro e Signore, vivo e tangibile, apparso a Maria di Magdala, ai due discepoli sulla strada di Emmaus, infine a tutti gli undici riuniti nel Cenacolo. La risurrezione di Cristo, perciò, non è frutto di una speculazione, non è frutto di un'esperienza mistica. Si tratta di un vero avvenimento che certamente oltrepassa la storia, ma che avviene in un momento ben preciso della storia e lascia in essa un'impronta indelebile. La luce che abbagliò le guardie poste a vigilare il sepolcro di Gesù ha attraversato il tempo e lo spazio. È una luce diversa perché è una luce divina che ha squarciato le tenebre della morte e ha portato nel mondo lo splendore di Dio, lo splendore della verità e del bene. Come i raggi del sole a primavera fanno spuntare e schiudere le gemme sui rami degli alberi, così l'irradiazione che promana dalla risurrezione di Cristo dà forza e significato a ogni umana esperienza, a ogni attesa, desiderio, progetto di ciascuno. Per questo il cosmo intero oggi gioisce, coinvolto nella primavera dell'umanità. Cristo risorto è la primavera dell'umanità. E quest'umanità si fa interprete del muto inno di lode del creato. L'alleluia pasquale che finalmente da oggi risuona nella Chiesa pellegrina nel mondo esprime l'esultanza silenziosa dell'universo. E soprattutto l'anelito di ogni anima umana, sinceramente aperta a Dio, anzi riconoscente per la sua infinita bontà, per il suo amore. Nella tua risurrezione, o Cristo, gioiscano i cieli e la terra. A questo invito alla lode che oggi si leva oggi dalla liturgia della Chiesa, i cieli rispondono pienamente. Le schiere degli angeli, dei santi e dei beati si uniscono unanimi a questa esultanza. Ma non è così purtroppo sulla terra. In questo nostro mondo, qui, l'alleluia pasquale contrasta ancora con i troppi lamenti e le grida che provengono da tante situazioni di dolore, miseria, fame, malattie, guerre, violenze, ingiustizie. Eppure, proprio per questo, Cristo è morto ed è risorto. È morto anche a causa dei nostri peccati di oggi ed è risorto anche per la redenzione della nostra storia di quest'oggi. Ed è risorto anche per la redenzione di ognuno di noi. Perciò, questo messaggio pasquale vuole raggiungere tutti. È un annuncio profetico. Vuole raggiungere i singoli e le comunità che stanno soffrendo un'ora di passione. Perché Cristo risorto apra la via della libertà, della giustizia e della pace. E allora gioiscano i cieli e la terra per la testimonianza di quanti soffrono le contraddizioni o addirittura le persecuzioni per la propria fede nel Signore Gesù. L'annuncio della sua vittoria, della sua risurrezione, infonda il coraggio e la fiducia. Perché Cristo risorto cammina davanti a noi, verso i nuovi cieli e la terra nuova, in cui finalmente vivremo tutti come un'unica famiglia, figli dello stesso Padre. e Lui ce lo ha promesso e con noi fino alla fine dei tempi. Allora camminiamo dietro al risorto cantando l'alleluia. come dice Sant'Agostino ora cantiamo l'alleluia della speranza domani una volta prodati al traguardo del regno dei cieli lo canteremo nella certezza. Nel nostro cuore c'è gioia e dolore sul nostro viso sorrisi e lacrime perché così è la nostra realtà terrena. Ma Cristo è risorto è vivo e cammina con noi. Per questo cantiamo e camminiamo. Non ci fermiamo ma proseguiamo ancora più decisi nel cammino fedeli al nostro impegno in questo mondo con lo sguardo rivolto al cielo. Allora in questo giorno io da qui ognuno nella realtà degli incontri che avrà con i propri i suoi fratelli con gli altri deve diventare come quell'angeli che annunziarono la risurrezione del Signore messaggeri di risurrezione. Ecco allora mi torna sempre in mente l'espressione del santo ortodosso Serafino Tisarov che per tutta la vita si fece messaggero angelo di risurrezione perché a quanti lo andavano a trovare nel suo luogo di eremitaggio il suo saluto era gioia mia Cristo è risorto Santa Pasqua a tutti